questo è il primo di una serie di video tutorials dedicati al participio presente in latino ma cos'è il participio presente vediamolo prima in italiano con alcuni esempi il cane è notoriamente un animale obbediente ma falda non è molto paziente per la scimmia c'è qualcosa di interessante da scoprire una comunicazione può essere molto importante a x factor sentiamo cantare il cantante l'esercito è guidato dal comandante il presidente della repubblica è sergio mattarella tutti i giorni ha a che fare con il docente sicuramente lo sapevi già ma tutte le forme che abbiamo presentato in precedenza sono forme del participio presente il participio presente è un modo indefinito del verbo che in italiano ha sempre valore attivo in italiano il participio presente si usa soprattutto come aggettivo o sostantivo mentre non ha quasi mai funzione di verbo in diversi casi poi molti participi presenti sono diventati dei veri e propri aggettivi come nei casi che abbiamo visto obbediente paziente interessante eccetera